Pochi, pochissimi uomini costretti a fronteggiare l'emergenza di un territorio particolarmente vasto e ad alto rischio, i vigili del fuoco di Brindisi vivono una situazione delicatissima tra turni massacranti e il terrore di non riuscire a rispondere a tutte le chiamate di soccorso che giungono alla sala operativa. A Brindisi abbiamo ancora circa il 15% di organico in meno rispetto a quello che è previsto dalle piante organiche nazionali. In termini numerici saranno una quarantina di unità. Turni dalle 8 di mattina alle 8 di sera ogni giorno. Negli anni si sono sprecati gli appelli ma non si riesce a risolvere una situazione che diventa sempre più delicata. Poi a questo si aggiunge anche il fatto che la campagna boschiva quest'anno è partita con notevolissimo ritardo. Gli altri anni parte dal 15 giugno, quest'anno è partita dal 20 luglio. Quindi tutto il lavoro che normalmente si faceva con due squadre almeno dal 15 luglio fino ad oggi si è stato sobbarcato dall'unica squadra che abbiamo in sede centrale. A Brindisi la situazione è ancora più sentita in quanto i pensionamenti non sono mai stati reintegrati e soprattutto ci si ritrova in un territorio d'alto rischio per la presenza di grandi aziende energetiche, non porto e aeroporto nel quale sarebbe richiesta una presenza straordinaria di uomini. Quando sono state assegnate le dotazioni organiche dei comandi in Italia, Brindisi è stata considerata con una classe che era relativa alla condizione di città di allora. E quindi diciamo che il rischio rilevante della nostra città non è più paragonabile a quello di 50-60 anni fa e questo dovrebbe portare a una riqualificazione del comando.